Nessun altro? Cazzo, il fianco. Dove sono i binari? Ok, binari che non risolto. No! 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 Accidenti! Muoviamoci! Oh, mio Dio. Sembra un palazzo alto e rotondo. Come faccio a entrare? Come faccio a entrare? Ciao. Avanti! Puoi farcela! Ancora un po', bello! Lascialo stare. Non sente niente. Oh, diavolo! Ho promesso che l'avrai fatto! Che offrite il cazzo. Scommetto che ti sei pentito di essere fuggito, Ezra! Fuggiti! Ci stanno attaccando. Credo arrivasse da quella direzione. Da quella direzione! Fuggiti! 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 Oh, oh, oh... E' finita. Che stronti schizzati. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. 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 Grazie a tutti. Novità, niente. Avanti, parlate. Ci sono novità? Nessuno qui. Ehi, non scherzare. Andiamo a vedere che succede. Vado io. Nessuno qui con... Hanno ammazzato Enzo! Dobbiamo fare qualcosa! All'edizione! Merda, stronzo! Sigh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Muoviamoci! Cappana! Non deve scappare! Porca troia. Cappare! Matteo! Forza! Sì, ma... Cappare! 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 Grazie a tutti. 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 Orch... Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Non puoi... ma... No... non voglio... devi... a tutti. a tutti. no... a tutti. 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 ok. a tutti. 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 si si vede. in giro. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.